RERRERE RERRE RERRERE 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 NUNA R 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 Baffin, Baffin, Baffin Baffin, Baffin 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 Dubs ees exemple ees po ees ees aes dpa ees ees o ees 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 e c'è qui è l'artasserti paiemmani. Noi c'è, noi c'è. C'è l'amagari, c'è l'amagari, c'è l'amagari. Viki hava prestigio e banchi, Orotachianc, Etimmochkobili gazi dati, un uzzurru e l'amagari. C'è l'amagari, 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 infirma, c'è l'amagari mi believes m'agari, c'è l'amagari, all'amagari, j'am proximity Mochia, c'è l'amagari c'è l'amagari, Sertori, sexy. Che va bene, guarda! Hei, guarda! I'm going to put the truth. I'm going to put it in a bit, and I think you should think. He's going to put it in a bit. E'le, guarda! Ok, ok. Come and say that you're going to get back to a second. Hei, guarda, haahaa! Hei, guarda! Dizra idea, dieva. Nei, guarda! But there's no such case the eliminating of the interrelations that will arrange in Russia in a way. No, 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 no. I don't like this. No, gli are you a tutti. Perché io sono giàuto un ullo di sfondo che a quando vieni all'OMEvi a staiotzini aeredi. L'esco sono state 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 state. Non è solo un ullo di più. Ah, ok. No, allora... e che ci sono un po' di sì a tempo che ho fatto nella rosa e non ho fatto solo a un rosa e non sono avuto ma non sono avuto me, non sono i rosa l'abbiamo a rosa molto le rosa è un rosa perchè è un rosa si qui si è un bel paio sanno l'ambico ti avuto la rosa la rosa l'ambico Ma tutto il nome che tradizzi il nostro fofo Il fatto è un'altra cina Ma sembra da un'altra cina Quindi si servono a prenderla Ma non doverà Ma non doverà Il capitolo? Dov'è la calma? No, non doverò Ma non doverò Ma non doverò E il capitolo è un'altra cina Ma non doverò Il capitolo Che bogus è la cina Il capitolo Sì, non è vero... Vincite, non ti ho... La via la cerchiera... Ma tutto quello è vero... Ma qui... Non vi comporta la mia... Voi? No, lui... Ossa è Giulietta... Ma è, dice? La mia cerchiera la cerchiera, non c'è la cerchiera... La cerchiera il cerchiera... Non è vero... La cerchiera! Ce l'ho accésato? La mia amica è la mia diretta. Non ci sono, non ce l'ho accésato. La mi è la mia esforza! La mia esforza! È la mia esforza! Il primo periodo, il primo romanzo a casa che succederebbe l'amore. Si! Bisai! Si! Mi bisogna! Io mi bisogno! Chiese lui che vi hai fatto un progetto? Rasterz gazzetti ha le Rau Kushner ma Arra herastich, es I'm neppis gazzetti am Meri metz magasarge gitt khedvi, laurovuskho unrashen khudrudat gazz Zena, oh, soli z'nogvandad le argi pikkere ya gittim Nogolara, pikkerov, ahi gazzetti, ahi Ahi gari, ahi da uukhde vizek me Ahi, c'hara Alë, shen to ima spikerov, shen toli z'nogvandad me metzkine ba Ar metzkine maz meo katsura d'gagge, uskhamzgol sa huy guan Arra, herastich, arra pishy archi misli, soli, khus Hukana sidini eze, jishnabadak mazara mojirgim, sajir Khuda, tu mazse yaregi, mazse kargatari, sakme, mazine naduvar mokab So, jo, n'uzti lo, gazzo, ah, gazetitruik ide, skhatashoriz Ho, hre, suna seokte, maha, kheratmian, zizperto aleba models Hau, ha? Maatzeri ega? Hra? Models rohundashevkote, maatzeri ega? Ki? Ha, ezo pahen ebiz gazetzi ega, tu leilakakulia Heeh... Ha? Niente? No, non vengono... Ma è un'altra cosa? Inizia il negozio, non mi penso che la mia di più. Se si è venuto il negozio, la mia è un'altra cosa, ma la mia è un'altra cosa. No, non mi sembrava? Non mi sembrava? Non mi sembrava? No, è il negozio mi. sono io ero ciao mica, ma non cecano che voglio questo è il fatto bene, è il fatto che ha come questo è il fatto che il fatto ma è il fatto che il fatto il fatto che il fatto No so, no. Una God. Qu'è teño qui ricevo su cero? Et tu fin couro? Serve la roba. minus 10 et 1. Low tha coni che service別 condividi convi. 아 généralmente si cero. E passa a tutto verso Il ciste ok Yeah, no. Voi senti colony di mur. assmenti. As Qua giornata, il primo è giusto che non dov'essere? Allora ti chiamo, tu non lo so? Non mi non lo so? Che tu mi ha diseggi di un palazzo? Tu non ti chiamo adesso? Tu non mi emidi. Ma io non faccio? Non mi ha detto voce. Non ti chiamo così, ma voglia? Mi ho fatto che cos'è. Non mi credo. No, non non mi credo. Non si io chiamo, non mi credo. Ascona! Ci sono molto simpatico che è stato inizialo. Edito, ciao! Che è il giustante? Dio, sono stato inizialo? Oh, aspetta! Oh, ho! Oh, ciao! Oh, ciao, grazie. Questo è il giusto che si ti ritrovano? Oh, non è? Cun di da? No. C'è! Non è? Ma c'è il giusto il giusto? C'è il giusto che non è? No! C'è il giusto che è un giusto. No, non è? C'è il giusto? C'è il giusto che non è? ... … … … … … Burtellia? Pagmita, c'è l'antennia? Mi sa, attacca il dollario. Meraz, amenazeziz. Arvici? Raman kana gavis. Arv gavis, vengoni, mankana. Mankana, tu arv gavis? Rabeh, burtellia. Ticuna. Gogo, tu beck burtellia. Ma che ho, aša, azzatzi di vevo, avincia. Arra, lasas, azzatzi di nè. Bai, mi darò, Turkmenitiz, čempeonitiz, Meoreligas, lasas, arux, uvrez. Ese, mitkha, 6 aqa dihcii muudu, Gogo, zga vietan, shemne, kamar zera. Mez, merer, aaa, Gogo, zghvaila, pahkburtellii, gaietans, ta, gvailas, gau, uxardeva. Tu ezi, daliyan, uxvar, qar, avto, goli, gaietanaz, sheni gulis, tu ezi. Raa, avto, goli, nasi, sulelea? A, u, nunu, nukai, shen magas, verasadesu, Vierasadesu, harmi, pahkburtellii, sheni guli, avto, gosro, gaietans, teli, stadionii, ruo, Zekani gulut? Alo, dir? Viss angelos? A, ale, shekha, ui. Ui, madloba. Madlob, madlob. Madlob. Madlob, madlob. 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 Madlob, raho? Chudze, bwai me eesa, chorabitzi kargi. Goguo, No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no... No... No, no, no... No, no, no...